Ecco completata la vostra visita al Parco di Pinocchio. Vi ringraziamo per aver passato il vostro tempo con noi in questa fiaba che, siamo certi, come noi, volete tramandare e condividere. Collodi è un luogo ricco di storia e bellezze. A pochi passi trovate lo storico Giardino Garzoni, un luogo magico giunto intatto a noi dal Settecento, simile ad uno stupendo teatro popolato da statue, fiori, verde, fontane e giochi d'acqua. Dove si trova anche la futuristica Collodi Butterfly House, una casa per le farfalle di specie equatoriali e tropicali che vivono e volano libere in una foresta pluviale, ricostruita dentro ad un edificio in pietra e cristallo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.